Oddio c'è la pull, stiamo andando benissimo eh Ciao avvocatori E benvenuti in questo nuovo video dove apriremo finalmente le mini teen Dopo Ciglizar EX abbiamo la mano calda Infatti noi non abbiamo interrotto proprio la registrazione E abbiamo preso le mini teen dove? Sempre sul Federick Store, questo video è in collaborazione con loro Perché abbiamo ancora il mega codice sconto Tutto il mese abbiamo il codice sconto, poche aspettative, 7% Approfittate perché è un'occasione incredibile E troverete ovviamente le mini teen e tutti gli altri prodotti anche in pre-order Se volete ordinare qualcosa, ad esempio la collezione 151 in arrivo con i primi Pokémon Apriamo, Tommaso non ce l'ha mai più da aspettare E ha iniziato subito da quella di Pikachu Facciamo vedere quanto sono belle Ora ci concentriamo una per una su queste artwork di queste mini teen ragazzi che sono da collezionare Perché anche dobbiamo creare il quadretto Che Tommi è bravissimo a creare il quadretto Tommi aveva un solo obiettivo, Pikachu Lui vuole vedere infatti subito l'immagine Ormai lo sa che dietro alle mini teen c'è il quadro completo Che possiamo andare a ricostruire con le mini teen E con ciò che troveremo all'interno Perché Tommi che c'è di solito dentro la mini teen? C'è un? Sticker Un sticker E poi c'è il? Cacchiere C'è un cartoncino C'è un cartoncino per creare il disegno Posso aiutare amore? E questi sono un po' Ormai Tommi da solo La particolarità di queste mini teen è che il pokemon è in rilievo Si vede? Che è un po' in rilievo Il fatto di mettere l'adesivo intero Cioè come il cartoncino Secondo me è più carino perché si può proprio andare a ricreare tutto il disegno Questo è il primo cartoncino Il primo pezzo del puzzle E lo mettiamo qua Lo mettiamo qua per adesso Attenzione l'adesivo lo rimettiamo dentro E lasciamo il cartoncino Così in Poi Tommi si trova tutti gli adesivi Che pacchetti ci sono dentro? Ci sono i pacchetti dove siamo stati più sfortunati Di tutti Quindi oggi ci dobbiamo rifare ragazzi E di solito noi con Scarlatta e Violetta e con Tempesta non abbiamo una gran fortuna Pochissimo Però chi ha visto il video di Ciglizar e X Sa che invece ci ha detto bene Sia Tempesta che ha Scarlatta pure Perché abbiamo trovato lo Spidops 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 è detto bene Iniziamo con Scarlatto E questo non si 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 Tandemouse Smolip Dai Pikachu Primeape Ma non si Pobie Stonegeo Penny Bella Mediciam Brattle Pachirisu E Omon Cologne X Vulu Andiamo con Tempesta E spacchetta papà Ragazzi Codice bianco Purtroppo Come si è diventato bravo Energia Fossile sconosciuto Araguani Stonegeo Solos Zuba E Fungus Sandicas Serena allenatrice E Del Fox Vado Vabbè dai Una pulletta Allora facciamo anche un pull rate Ci dicono quelli figli No Quindi un pacchetto Era con la pull Vi chiamo le altre Oh Tommy ha già aperto Quaxley Ti piace Quaxley Andiamo a ricostruire un po' il disegno Vedete com'è il quadro Tommy guarda Giusta qua E il quadro si sta di qua Quindi abbiamo aperto proprio gli opposti Come si chiama questo? Luggia Luggia Vai toto tempesta Un pacchetto di luggia con dentro luggia Mi sembra ovvio no? Oh 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 E il codice è nero 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 Segnalino e viastro Archen Clang Clydol Swirlix Marini Indite Baltoi Sankern Lavoratrice E vai Che bella lavoratrice Non l'abbiamo mai pullata questa Hai provato una carta stupenda Tommy E vai Bravo Alessandra torca a mamma Stiamo andando benissimo eh Com'è? Allora Eh no questo non lo dai? No scusate stavo sbirciando Codicino Ero impegnata a sbirciare Io il trick non lo faccio Perché sono Protesta Ribelle Ribelle mamma Li ciò Taruntula Io devo trovare sempre i ragni Sennò voi si sono contenti Vattel Crocoroc Crocalor Carino Questa è l'evoluzione di Fuecoco Eh sì Florges Muc Muc Cacturne Sbrigatino Toccorino E Anni Leip E poi L'energia Che tutto Va bene ragazzi Una pull Finora a pacchetto Una pull a pacchetto Si mantiene quindi Quello che avevamo detto prima Non ci lamentiamo Quale hai preso Tocton? Fuecoco E voi Se non vi iscrivete Scrivete il simbolo No Che va detto Assolutamente sì No Io non abbozzavo Tocco Le iscrivevo E non ero del simbolo Questo è l'adesivo E questo Cazzoncino Dietro ovviamente Ci sono tutte quante Le informazioni Sul Pokémon E qua Andiamo ad aggiungere Carini anche i Smalliv Che girano intorno Devo dire che è carino Il fatto che ci siano Poi anche altri Pokémon Che interagiscono insieme La mia preferita È questa La vediamo bene dopo Nel dettaglio Però ci sono i due cagnolini Che giocano Per me è deliziosa Le vedete su qua Sì Poi è un miniatto preferito Pensavo Pikachu Pensa un po' Guardate come si impegna Ormai c'ha una tecnica Di Tocco là Mamma mia Tecnica brevettata Di Tocco Qua ovviamente Ci saranno alternativi Perché quando Tommaso Le piega Di solito O ci stanno le gold Magneton Klavizzer Grivard Mascif Campi in spiaggia Sanda Conda Aceria Rotom C'è in si Oh Guardia War X Altra pull per Tommi Che oggi C'ha la mano calda Tommi Che è successo Tommi Ti faccio aprire Di tutto Anche i pacchetti Vintage Che non abbiamo No È tornata la linea E andiamo con Tempesta Che non si smentisce E ci dà un codicino Bianco Eh ma possiamo sempre trovare Un'attiglia eh Ci spero poco Pazzamò però Vabbè poche aspettative Ma un minimo di fiducia Tagliela Di oggi niente ragazzi Zero aspettative L'energia Archen Klang Clydol Ponita Venonat Dupiders Pinda Fibas Fattura Roma E Cobaglio Io vi dico una cosa Non spacchetto più oggi No amo Basta Mi sono stufato Protesta Adesso tocca a me a te Faccio una protesta oggi Non sto pullando niente Tra ciclizzare Questi minitin Zero Pommi ha scelto la sua preferita Pommi Dai dai Pommi Confido in te Pommi 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 sta vicino Pikachu Qui Quindi spregatito in mezzo E vai Io sono gasata a riaprire Comunque Tempesta Anche se si bulla poco E' una bella collezione Che è successo? C'è la pull Vai 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 Cassa kid Pozione Puzzle Recupero di energia Mesa poli Drift Benda sfida Penny Scovillion Adò Tomot E mamma ha detto che c'era la pull Quindi vuol dire che io devo sperare bene E andiamo Ragazzi Tempesta Di mamma Io qua spero allora Scusate Io penso essa qua Virciamo subito Guarda Codice No 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 Massa Gesso Energia Kirlia Torracat Dragonair Fennkin Durant Emolga Veldum Stunfisk Oducia E Zigard Allora ragazzi Pommi Zero Non prendete pommi No vabbè Non è la nostra fortunata Ultima tin Vai totto Queste le apre tutte e due totto Perché oggi totto mano calda Vai Tommy Così chiudiamo anche questo quadretto Spregatito con fidu Carinissimo Guardate Lo mettiamo qui E ecco abbiamo concluso il quadro È molto carino I colori sono veramente belli Dai Totto 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 Facce sta Pull Diamo subito il codice a loro Energia Grime Buxis Oddio Deciò qualcosa Mook Vivion Questo non so pronunciarlo Flabebe Seviper Adò Revavrum Eh ragazzi però Lui l'ha detto Eh questo per ultimo E ragazzi Concludiamo Questo spacchettamento Mini tin Scarlatto Violetto Ma anche con Zenith Regale Perché le hanno Immischiati Con il pacchetto di Luzia Che apre totto Codice per chi se lo piglia Niente trick Serena Drattini Cincu Meditite Chi è? Dupider Dupider Bonita E molta E bello Livingant Non c'era niente Non c'era niente ragazzi Basta Questo pure era voto Quindi Due vuoti E tre con una pull Eh poteva andare meglio Dai Però siamo molto contenti Ci siamo divertiti E questo è l'importante E poi guardate come sono carini Sia questi qua Che possiamo mettere Nell'alto Che gli adesivi E soprattutto Le mini tin Se lo dò Belle Belli Belli Tommy li adora Che dentro ci può mettere I giochini Ci può mettere le carte Soprattutto Vero amore? Grazie per aver visto Questo video Fino a questo punto Mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi E commentate Perché vogliamo sapere La vostra E usate il nostro codice Sconto Poche aspettative Del 7% Sul Facebook Vi restiamo tutto In descrizione Come sempre Ci vediamo Al prossimo spacchettamento Siamo pronti a dire ciao? Ciao Ciao Ciao